Mi illumino d'immenso, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Roma 3, Torino 2, a meno 4 dalla zona Champions, Di Bala, Paolo Di Bala, un giocatore meraviglioso, sontuoso, fantastico, eccezionale. Il prezzo del biglietto oggi doveva essere raddoppiato per quello che abbiamo visto in campo, da stropicciarsi gli occhi soltanto alcuni fantastici calciatori del passato avrebbero fatto quello che oggi abbiamo visto in campo con questo campione del mondo argentino, orgoglioso di averlo nella mia squadra. La Roma, grande Roma, Forza Di Bala, avanti così, con la cura dei rossi, stiamo andando avanti, la zona Champions è a un tiro di schioppo, ce la dobbiamo fare, dobbiamo crederci. Mamma mia ragazzi però, che sofferenza fino alla fine, quel 3-2 mi è rimasto qua, non ce la facevo più, non mi andava giù, quel pezzetto di carne che mi stavo mangiando mi era rimasto qua. Mi dovevo dare le botte dietro al collo, sulla testa, sulla pelata. Mamma mia che sofferenza. Però è anche giusto così perché le partite vanno giocate dall'inizio alla fine ed è normale che incontri l'avversario difficile. Il Torino oggi era un avversario difficile da battere, anche perché abbiamo avuto qualche giorno fa un match 120 minuti più i rigori contro il Feyenoord. è stato dispendioso, quindi posso capire che alcuni calciatori erano in sofferenza di polmoni, di fiato, di fatica per quanto riguarda la muscolatura. È normale, poi il Torino è una buona squadra, no? Però Iuric, ti voglio bene io, ma che ci vieni a fare a Tricoria col tuo spione là, a orecchio? Poi uno che spia si chiama Orecchio, magari si chiama Occhio, no? Orecchio. E si è pure fatto pizzicare, prendere dai vigili urbani, di spinaceto. Scusi, come si chiama lei, orecchio? Eh, via giù, va, via giù che qui non ci puoi stare a spiare in mezzo ai cespugli gli allenamenti di Terossi a Tricoria. Ma poi, ma che ti vuoi spiare? Che cosa vuoi vedere? Iuric, Di Bala, quello ce l'ha innate queste doti. E tu è inutile che vuoi guardare gli schemi. Ma con Di Bala, gli schemi, sì, sono importanti, ma lascio nel tempo che trovano. Lascio nel tempo che trovano. Mi dispiace che avete fatto questa figuraccia, perché secondo me il Torino non ha bisogno di queste, diciamo, scorciatoie, no? A vedere, a spiare. Poi la seconda volta che è stato beccato questo orecchio, due volte. Comunque, parliamo della partita, ragazzi, ci può stare. Sono incidenti di percorso del Torino, di Iuric. Nel calcio si fa del tutto per vincere, no? Anche se magari a volte alcuni interpreti usano degli mezzi meno leciti. Non è il caso, dai, del Torino che è venuto soltanto a guardare gli allenamenti della Roma in modo anonimo. La partita mi è piaciuta. All'inizio, il primo tempo, devo dire la verità, il Torino ha giocato un po' meglio. Ha avuto le occasioni più della Roma, anche se Christensen ha preso il palo. Mannaggia! Tira in porta, a porta libera, prende il palo. Vabbè, Christensen non è un bomber, non è un attaccante, quindi possiamo dargliela, diciamo, no? Possiamo sorvolare. Però nel secondo tempo poi è entrato in cattedra quel fenomeno assoluto. Che gol, ragazzi, ma come fai a segnare un gol del genere all'angolino da una mattonella così, da fermo? Da nulla, da nulla! Per non parlare del terzo gol, ragazzi, in una posizione assurda. Nessuno avrebbe mai segnato da quell'angolo cieco. Un angolo cieco! Meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. E poi, oh, con De Rossi non voglio portare sfiga. Gioca sempre di bala, tutte le partite, dall'inizio alla fine. Ma tutti bene stanno, Smoling. Renato Sanchez oggi l'abbiamo visto. Oh, sarà De Rossi che porta fortuna, che questi... È la loro medicina, De Rossi. De Rossi come Occhi, De Rossi come la tachipirina. Oh, c'è sta lui, non si ammala più nessuno. Facciamo le corna. Però, tutti disponibili, se non erro. Ragazzi, poi fatemi menzionare, prima che mi dimentico e finisco il video, Mancini! Che partita ha fatto Mancini! Straordinaria! Straripante Mancini! Senza menare, senza prendere a pugni nessuno, schiaffeggiare nessuno. È logico che si fa sentire, perché è un difensore roccioso, un difensore bello tosto. Però non dice più, non si prende più a male parole con gli avversari, non litiga più. Lo vedo cambiato anche lui. Gioca con una pulizia di anticipo incredibile. Si propone anche con il gioco. Mettendo, diciamo, in transizione i suoi passaggi, le sue verticalizzazioni. È rientrato anche Smalling oggi, oh! Abbemus Smalling! Smalling ha giocato 80 minuti. Smalling, ragazzi. Poi Indica, ragazzi, è veramente un grande calciatore. Secondo me avrà un futuro meraviglioso con la Roma. Un futuro meraviglioso. Quindi non posso che essere contento questa sera, a parte quel gol di Zapata che è saltato in mezzo a due. E lì te lo devi marcare meglio il calciatore. Però ci può stare un errore durante l'arco della partita. Meno male che poi è salito in cielo. Ma nel senso che si è elevato come uno spirito santo. Paolo Di Bala che ci ha fatto vedere questa sera delle robe di un altro mondo, di un altro pianeta. Lascia un like a questo video per supportarlo. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Attiva la campanella delle notifiche. E seguimi su Instagram. Link in descrizione. Forza Roma! Di Bala! Sei meraviglioso!